Franco da Cagliari pure che ci ha scritto, Carmela su Facebook, ragazzi lunedì dell'innamoramento non mi riferisco alle ore 16.30 collegati con Padre Pio TV per una puntata di Vangelo Giovane potrai mandare i tuoi sms, potrai scrivere le tue email o postare i tuoi messaggi su Facebook o telefonare in diretta, vi aspetto Grazie a tutti